Com'è le notifiche? Ah cazzo è vero Da designer quello che amo più fare è riprogettare, rivisitare le cose che utilizzo ogni giorno E devo essere onesto, questo mese ho usato parecchio Twitch Dove sono io? Ce n'anni! Non ero in live, ma che fa? Segue StudyTime, si cilla con StudyTime E' una piattaforma che utilizzavo e che non conoscevo E forse non conosco neanche adesso così tanto Ma utilizzandola mi sono reso conto che è terribile Ragazzi devo essere onesto, non vedevo un sito progettato così male non so da quanto tempo Per i nuovi io sono Breccia, faccio il designer E oggi faremo insieme un'analisi della usabilità del sito Per capire cosa non funziona, perché non funziona, come potevano migliorarlo E poi alla fine faremo un redesign Quindi aggiusteremo tutte queste cose per fare una nostra personalissima visione e versione di Twitch Quindi poi sarete anche voi, soprattutto se lo utilizzate, a dirmi se secondo voi la mia versione funziona meglio Partiamo dall'home page Allora l'home page di solito ha un ruolo Quello di scoprire, di farmi scoprire, di consigliarmi canali nuovi Vediamo, vediamo, ci sta che lui abbia un take da designer Io darò un take da power user però Quella di YouTube funziona molto bene L'hanno migliorata nel tempo Adesso diciamo che inizia a consigliarti cose veramente che ti possono interessare Ecco, quella di Twitch, no Ha diverse sezioni, come tutte le... Ahhhh, beh Vedo che... Vedo dei contenuti mastodontici Page, ai consigliati, alle categorie Ma tutto bene Quello che vedo che manca probabilmente è una sezione trending In modo da premiare gli streamer che stanno facendo molto bene E magari anche una classifica Cosa che hanno e funzionano molto bene altre piattaforme come Netflix Nella parte di sinistra invece abbiamo un pannello Beh, di già questa critica è qualcosa di cui abbiamo parlato col CEO Che mi sembra che abbia delle opinioni in merito Purtroppo, cioè il trending e l'intenzione di Twitch non è quello di farti saltare da uno streamer all'altro Ello che si ripete in ogni schermata Anche qua vedremo che questa cosa qui di solito non è giusto farla Dove mi mostra i canali che seguo Ci sta, i miei preferiti E altri consigliati Anche se i consigliati ce li abbiamo già nel blocco dell'home page principale E la cosa più strana qua è il fatto che Dei canali che seguo non ho l'altro prima Quindi per vedere cosa sta succedendo Devo entrare dentro Questo è facilmente migliorabile Poi vediamo Ci sta E abbiamo la pagina following La pagina following è la seconda pagina che Twitch mi consiglia Di conseguenza possiamo capire che in termini di gerarchia E quella che per loro è la seconda in termini di importanza Entriamo dentro Questa pagina è un disastro Ci siamo noi Cioè questa pagina non vuol dire niente Cosa mi mostra fondamentalmente i canali che seguo Con l'anteprima Quindi è esattamente una copia della barra di fianco Ma con l'anteprima E sotto ancora una volta Canali raccomandati Quindi ho il canale raccomandato Giù A sinistra E nella home page Lo stesso dato portato in diverse schermate Da designer quando mi trovo davanti a schermate del genere È molto chiaro che c'è un problema di gerarchie E di architettura delle informazioni Questa pagina non dovrebbe esistere Dovrebbe essere implementata O nel menu laterale Oppure nella home page Quindi in un'ottica di riprogettazione Ci sta Questa pagina following Tagliamola Poi abbiamo la pagina browse L'obiettivo di browse È quello di farmi scoprire gente nuova Che è lo stesso obiettivo della home page Con l'aggiunta che posso filtrare In modo più approfondito i canali Che però già posso filtrare nella home page Quindi anche questa pagina non ha un obiettivo molto molto chiaro Anche in questo caso possiamo unirla E potenziare la home page Ora passiamo alla menu bar in alto La menu bar anche questa ha un ruolo molto importante Perché aiuta gli utenti a muoversi Ciao Dave grazie per gli otto Ciao Abby grazie per i tre In tutta quella che è l'esperienza Ciao pupo Qua ragazzi è il vero disastro Allora abbiamo il logo Non so perché il logo è nella versione contratta Lo spazio c'è Potevano benissimo mettere Twitch Mettiamo noi Twitch Poi abbiamo following Che come abbiamo detto è inutile Lo mettiamo nell'home page Abbiamo browser Che come abbiamo detto Peggio è ancora più inutile Lo implementiamo nell'home page E poi abbiamo questi tre puntini Che vengono chiamati ellipsis Allora il ruolo delle ellipsis È quello di dare maggiori informazioni O di nascondere delle informazioni secondarie Di solito si trova o in alto a destra O in basso a destra Perché questo? Perché in termini di lettura È l'ultima cosa che va a vedere Noi lo troviamo Uno qui in mezzo E due Questa cosa è incredibile Quando lo clicco Mi apre un menu Longhissimo Che in realtà altro non è Non lo sapete che non l'ho mai cliccato Mai In quattro anni Non ho mai cliccato questo tasto Oltre che Non averlo mai cliccato Né da utente Né da creator Download apps Gift card Ma che cazzo è sta roba? IGDB Ma che cazzo l'hai mai viste queste cose? Che è un footer Ma Twitch ma tutto a posto C'è un footer lì in mezzo No sense Totalmente no sense questa cosa C'è l'about C'è i jobs Cioè questa roba non va qua Va in un'altra pagina Proprio in un'altra parte di Twitch Io ho una cosa che non l'avevo mai vista Fantastica Quindi cosa si può fare? Oh Ma poi sono veramente mischia Jobs About Advertiser Blog Ecco dove cazzo si prega Io ho sempre googlato per beccare il blog Ad esempio Ciao Ale Grazie per i venti Queste informazioni vengono ricollocate Una pagina In una parte Un po' più orientata al business di Twitch Un po' più laterale All'interno Di una sezione del profilo Perché già lo abbiamo Il profilo è lì In alto a destra Con la sua tendina Prima di farvi vedere la riprogettazione finale di Twitch Secondo me Abbiamo parlato di siti fatti male Ma se vi volete fare il vostro sito fatto bene Vi do un piccolo consiglio Hostinger Website Builder Una piattaforma che ti permette di Buonasera in cura Qua sotto vi lascio lì Poi abbiamo un search Che va bene E poi abbiamo una corona Allora questa corona Che cacchio è? E ha a che fare con i vantaggi di Prime Quando andiamo a inserire delle icone Quello che si fa Sempre da designer È utilizzare Ciao Samuel Grazie per i due anni piccolo Grazie Ale per i venti O Nero per i trenta Di quella che è la loro funzione In questo caso La corona Che cacchio vuol dire? Il premium forse? No non è il premium Io clicco E mi porta su Amazon Games Che è un altro sito Completamente Boh Non potevano inventarsi un logo Su questo devo dire che Ok per noi è abbastanza chiaro Però ci sta che qualcuno da esterno Si chiede Boh Amazon Games Diverso Ad Amazon L'idea di branding Di categorie di prodotti Non è chiarissima Quindi andiamo Secondo me Secondo me la critica Regge Cioè tu sei su Twitch Perché dovresti sapere Che Twitch è legato a Amazon Cioè il legame fra Twitch e Amazon Dal punto di vista di interfaccia E di interazione Non è chiaro eh Facciamo Creiamo un'icona Di questo Amazon Games E mettiamola lì Anzi sai cosa Su questo Amazon Games Andrebbe fatto Un trattamento diverso Un'implementazione diversa Quindi andiamo per adesso A ricollocarlo Nel profilo Poi abbiamo Questa cosa Questa scatola Drop Questa scatola Altro non è Che il pannello Notifiche Chiaramente no Ragazzi Come Notifiche Ah cazzo è vero Siamo tutti Minchia fa veramente schifo Qual è il modo migliore Per rappresentare Delle notifiche Anzi ci sono vari modi Sicuramente Ma che ne so Io quando vedo che c'è un pallino Ci clicco Quindi mettiamo una campanella E siamo tutti tranquilli Che quelle lì Sono le notifiche Non ci devo neanche pensare Se vedo un pallino lì È una notifica Chiaro Poi qua Ho un'icona strana Che sembra un Però io la metterei Le notifiche Mi piacciono tutte a destra Tag Strano Su Twitch Non ci sono i tag In realtà Sono i whisper Che cazzarola sono i whisper Il menu Non mi invita neanche a capire Che cosa sono Quindi ho dovuto googolare Whisper fondamentalmente sono Messaggi privati Allora Questo Questo Secondo me È una critica Un po' così Così Il tema qual è È che Le chat All'interno di Le chat All'interno di Twitch Sono gestite Tramite una cosa Che si chiama IRC Che è un protocollo Di chat Che penso esista Dagli anni Settanta Settecentosettanta E quindi In realtà Ogni canale È un canale Dentro un grande server Che è quello di Twitch E all'interno di questi canali Si possono fare I whispers Probabilmente Sono inutili E secondo me A un certo punto Li Li toglieranno I messaggi privati Ragazzi Poi abbiamo Quest'icona Che rappresenta Bit I bit Fondamentalmente Sono La moneta Di scambio All'interno Di Twitch La moneta La propria moneta Virtuale Allora Io ho fatto un po' di ricerca Quando si va a fare Un redesign Una riprogettazione Bisogna sempre fare Ricerca sull'utente Ricerca di mercato Eccetera eccetera Io In questo caso L'ho fatta Non in modo approfondito Perché chiaramente Questo è un gioco Va bene così Però dall'analisi Che ho fatto Mi sono reso conto Che uno I bit Sono poco utilizzati Due Vengono utilizzati Nella chat E di conseguenza Non devono stare lì Ma devono stare All'interno Della chat Su questo Sono abbastanza D'accordo Però non è vero Che sono poco utilizzati Secondo me Non so che analisi Abbiamo fatto Però Ricollocare lì E le riprogetteremo Quando andremo a rivedere La chat E poi abbiamo Questo pulsantone Che in realtà Una cta Una cta Una contruzione importante Che mi consiglia di fare Twitch Turbo Per togliere le pubblicità Anche qua Il concetto di branding Ad Amazon A Twitch Non è molto chiaro Infatti In che pianeta Questa batteria Dovrebbe essere Un logo Quale pianeta Dell'universo Sicuramente Non in questo pianeta Voglio dire Un attimo Eh che cacchio Andiamo a riprogettare Un'iconcina Che mi possa suggerire Che è un Twitch Potenziato In qualche modo Andiamo a rivedere Questo pulsantone Anche qua Non ho mai capito Twitch Che cosa pensa Di Che cosa pensa Di Di questo Turbo Se gli piace Se non gli piace Boh Quindi quello che abbiamo fatto adesso È un'analisi Della UX Cioè Della usabilità Del sito Quindi abbiamo riposizionato Le informazioni Quello che manca È Aggiornare La grafica Con una UI Quindi un'interfaccia Utente Che rispetti il branding Di Twitch Anche perché Twitch straordinariamente È un branding Ce l'ha Gliel'hanno fatto Ed è anche molto bello Ma di questo branding Vi metto qua Il brand book Sul sito Non c'è niente Ma perché Non si capisce Che cacchio lo fai a fare Un brand book Se poi non applichi Le linee guida Che ti danno Questa Questa è un mistero Un mistero della vita Ora passiamo Alla vera riprogettazione Al di fuori di tutte le cose Che abbiamo sistemato Allineato Secondo me c'è un concetto Di base importante Allora Twitch sta sostituendo La tv Questo è abbastanza chiaro Diventa un riempitivo Diventa qualcosa Che ascolto Come sottofondo Mentre faccio altre cose Quello che manca Che era di grande valore Nella tv Era lo zapping Cioè cambiare Velocemente Aspetta cos'è che ha detto Il grande valore Nella tv Era lo zapping Cioè cambiare Velocemente Tra un canale e l'altro Per vedere Se c'è qualcosa Che mi Eh ma questo è in controtendenza Con quello che vuole fare La piattaforma Quindi anche se vuoi Ridisegnare le UI Twitch secondo me Manca un tasto zapping Manca uno shuffle Quindi quello che ho fatto Come riprogettazione iniziale Ho messo Come prima cosa I canali che seguo Live Dove con un carosello Io posso passare Velocemente da uno all'altro E poi un tasto shuffle Che mi permette Di passare velocemente A un altro canale random Come abbiamo detto È necessario Sarebbe utile Avere una sorta di Classifica Dove mi dice Gli streaming Che sono andati Meglio quella settimana E questo lo possiamo Ricollocare Nella parte laterale Di sinistra Dello schermo In basso Si può iniziare Con tutto La curatela di contenuti Con magari consigliati E le varie categorie Come vedete Prima e dopo Come vedete Non ho stravolto niente Semplicemente ho Riposizionato Le informazioni In un modo A mio parere Più logico In alto Come vedete Il menu Questa volta È diviso In tre categorie Home Watch E calendar In home Come abbiamo detto C'è la parte Discovery Nel watch Invece È quello Che mi si apre Quando entro In un profilo Qui le informazioni Sono state Riposizionate Effettivamente Allora Al centro Chiaramente Fa un po' vedere C'è lo streaming Che sto seguendo Di riferimento Il nome Viene ricollocato In alto In basso Mettiamo Il titolo È la categoria E nella parte destra Abbiamo due frecce In alto In basso Che mi permettono Di cambiare streamer In un modo veloce Troppo Questo qua Secondo me È devastante Questo qua Secondo me Il cambiare Scrollando È proprio Anti twitch È proprio Anti twitch Questo è terrificante Troppo come se Passero uno scroll Seguo quattro canali Sono tutti e quattro In live Posso passare Da uno all'altro Più velocemente Nella parte di sinistra Abbiamo Il pannello Dei following Rivisitato Mi fa capire Quale stime Sto guardando Ed effettivamente Cliccando le frecce Mi sposto Da uno streamer All'altro In alto C'è il cerca E in genere Questo non è male Invece Questo devo dire Che carino In generale Tutto quello che vedo È estremamente Estremamente pulito È chiaro Nella parte di destra Chiaramente abbiamo La chat La chat È il grande problema Di twitch La chat È un Fottuto Inferno La chat È progettata Malissimo Allora Da dove partire Veramente Io non so Da dove partire In primis L'occhio È in grado Di leggere Facilmente Le informazioni Se queste Vengono Distanziate E clusterizzate Raggruppate Tra loro Lo spazio Tra le linee Di testo E il commento Successivo È lo stesso Di conseguenza L'occhio Fa fatica A leggere Le informazioni Ci si può Abituare Certo Si riesce Ovviamente Ma fa più Fatica Quindi Aumentando lo spazio Uno è più facile Creando anche Dei box Che mi Definiscono I messaggi Diventa ancora più semplice Distanziando Il messaggio Dal nome Aumentiamo La legge Sì vabbè Ma tu Ma la vedi La mia chat Questa va bene Se c'hai 15 chatters Io che sono Streamer medio Mi leggo Se va bene Un messaggio Alla volta Anche perché Molti nomi Sono lunghissimi Di conseguenza Alcuni messaggi Partono dopo il nome Alcuni messaggi Partono sotto al nome Si crea un caos totale E poi c'è sta cazzarola Di cosa Su Twitch Di questi Beige Insopportabili Che sono 2000 Non si sa cosa vogliono dire Perché hanno tutti Dei linguaggi Diversi Ma io dico Twitch Ce la fai Bisogna creare Uno stile estetico Riconoscibile I beige Relativi a Twitch Devono fare I beige Parte Parte dell'identità Grafica Di Twitch Quindi per esempio La corona La spada Questi qua Facciamoli Utilizziamo I colori di Twitch E magari utilizziamo Anche delle grafiche Non delle coloncine Del cavolo Più adatte Io qua ho fatto Delle grafiche Veloci In 3D Carino Ma no Più adatte Allo stile estetico C'è un motivo Per C'è un motivo Per cui sono Verdi Che si devono Vedere subito Di Twitch Così sono in grado Di differenziarli Da quelle che sono I beige Dello streamer Ma anche Sui beige Dello streamer Io devo andare A creare Delle linee guida Non ci può essere Il caos Più totale Altrimenti È un casino Veramente Non si capisce E soprattutto I beige Dal momento Che possono essere Due O dieci Devono essere Dopo il nome Perché se io li metto Prima del nome Il nome slitta E vado a creare Dei problemi Di leggibilità In aggiunta Per chiudere il cerchio No questo Le chat IRC Sono così Dal Questo deriva Da come sono fatte Le chat IRC Cioè Non c'erano I badge Ai tempi Però comunque Se sei un mod Ce l'hai Vedi Questi qua Sono gli admin Se ricordo bene Mentre il mod Aveva un altro carattere Ok IRC è morto Ma va IRC Stai usando Per scrivere IRC è morto Hai usato IRC Le vao Comunque Secondo me I cose Devono stare Devono stare Sulla sinistra Non sono d'accordo Su questo Io possiamo aggiungere Una piccola Foto profilo Al nome Che ovviamente Ma tu sei pazzo Mi aiuta A riconoscere Velocemente Chi sta scrivendo Perché La memoria visiva È più veloce Della lettura Andiamo a migliorare Anche quello che succede Ma infatti i nomi Io mica li interpreto Io i nomi non li interpreto Come nome Li interpreto come immagine Tant'è che sono colorati Apposta Ciao K Grazie per i 29 E mi accorgo Di quando ho cambiato i colori Vedete nella parte alta Abbiamo un'iconcina Nella parte in alta a sinistra Che mi permette Di collassare Di chiudere la chat Questo può diventare Un tasto X Chiaramente E poi c'è un'iconcina Che Anche qua Mai vista Ma che cacchio è Ma chi l'ha fatta Quest'icona Ma cos'è Un birillo Vabbè Fondamentalmente Per vedere i dettagli Della chat Questo dettaglio Della chat Può diventare Il tasto I Informazioni Poi qua giù Abbiamo Questo grazie Questo è fantastico Io veramente Boh Cioè Neanche uno studente Di design Giovane Può fare una roba Così agghiacciante Allora qua abbiamo Vengono segnalati Le persone Nella chat Che hanno donato Più abbonamenti Mi sembra di capire Qua abbiamo Primo, secondo, terzo posto Rappresentati con un pacco E poi abbiamo di fianco Pacco 25 Pacco 10 Pacco 10 Il pacco non serve A rappresentarlo due volte Il primo posto Il secondo e il terzo Basta rappresentarli Con una targhetta Con qualcosa E poi magari di fianco Mi fai capire Che quelli sono I posti Le posizioni Per i pacchi Ma utilizzare la stessa icona Come se proprio Non ne avessi altre Oppure non ne sapessi Creare altre È ridicolo Perché non serve E anzi crei un problema Allora poi andiamo Nella parte finale Dove posso effettivamente Ci sta questo Scrivere E anche qua C'è il caos puro Innanzitutto c'è un tasto chat Ma che cacchio vuol dire Tasto chat Tasto invia al massimo Non è per niente Ci sta È necessario Metti una freccina Come in tutte le chat Del mondo Poi abbiamo i bits Sulla riprogettazione dei bits Io ho notato Ho chiesto Che le persone Non li acquistano E li mettono da parte Per poi utilizzarli I bits fondamentalmente Possono essere utilizzati Nella chat Per dare supporto Ecco La gente Non li compra prima Ma li compra Quando li sta utilizzando Di conseguenza Possiamo fare Che quando inizio a scrivere Ciao Magallone Grazie per 23 Di aggiungere dei bits Non ha senso mettere Un'iconcina Sempre lì Poi in basso Troviamo Un numero Tipo 770 Che rappresenta La gamification Legata a quello streamer E rappresenta Quanto interagisci Con lo streamer Figo Mettere una gamification Ma la gamification Ha senso Non ho capito Cosa ha detto Dei bits Sinceramente 770 Che rappresenta Poi in basso Troviamo Li compra Quando li sta utilizzando Di conseguenza Possiamo fare Che quando inizio a scrivere Io suggerisco Al mio utente Di aggiungere Dei bits What? Non ha senso Mettere un'iconcina Sempre No Questo non ha Questo Proprio Si vede Che non ha mai Scritto in chat Nella sua vita Poi in basso Troviamo Un numero Tipo 770 Che rappresenta La gamification Legata a quello Streamer Rappresenta Quanto interagisci Con lo streamer Figo Mettere una gamification Ma la gamification Ha senso Solo se Esiste un senso Di progressione Altrimenti Tu mi metti Un numero 500 Ma non è vero Questo serve Per comprare Item Non mi dice A quanto devo arrivare Che senso C'ha Quindi qua Possiamo mettere Sì un punteggio Ma possiamo mettere Anche una progress bar Di che cosa? Quindi Come vedete Anche questo L'abbiamo riprogettato Vediamo le due Potrebbe essere carino In realtà Prima e dopo Vediamo le due pagine Prima e dopo Da lontano Sono Molto molto simili Perché appunto I colori sono gli stessi Ma c'è una struttura Delle informazioni Completamente diversa Bene ragazzi Questo è tutto Mandate pure questo video Il vostro Twitcher preferito Perché mi piacerebbe Vedere effettivamente Vedere una reaction Da parte di chi Lo usa Sono io Non come me Che lo uso Lo uso veramente da poco Se vi è piaciuta Questa analisi Del design E siete interessati Al modo del design Io sto Lanciando Un corso Per imparare A diventare designer Perché lo sto facendo Ma allora Innanzitutto Apprezzo il lavoro Sono convinto Che ci sia Tanto da fare Ma Ti dico subito Che la più grande Criticità Non penso che guarderà Mai questa reaction Comunque io Glielo faccio lo stesso Al dottor Breccia La più grande criticità Della tua analisi Delle criticità È che Non hai capito Quali sono Che cosa vuole fare Il cliente Cioè Alcune delle cose Che proponi Sono in netta Controtendenza Controtendenza Rispetto a quello Che vuole fare il cliente Che è Twitch Ovviamente Il cliente Non è interessato A farti fare zapping Né a farti staccare Da un canale Quindi la cosa Dello swipe Te la bocciano Proprio immediatamente Questo non è TikTok Questa cosa qua Dello swipe Te la proprio Te la ammazzano Istantaneamente Sono d'accordo Sul design del menu Su alcune cose Di Di sciatteria Che ci sono All'interno della pagina Ciao Enrico Mosca Grazie per il 33 E complimenti Per il tuo lavoro Nella serie tv Cuore 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 Quindi appunto Questa Questa cosa qua Del prossimo Non è Proprio come funziona Twitch Chiare analisi Da parte loro Ma anche da parte Nostra Come anche quelle che stiamo Facendo col maestro Col dottor Milani Tommaso Esplicitano che Gli utenti passano Molto tempo Su un canale Quello che vogliono Loro Quindi secondo me Benvenga Questa parte a sinistra È molto interessante Ti aiuta Ti aiuta a vedere Che cosa sta succedendo Sicuramente meglio Rispetto a non Poter Insomma Non avere Questo tipo di informazioni Può tra l'altro Essere una cosa Configurabile Quindi ognuno Può decidere Cosa fare E cosa non fare Se metterselo Oppure no Eccetera Inoltre Devi considerare Che una delle cose Che viene fatto Di più Dagli streamer E attivare i pre-roll Purtroppo Quindi questa tua Questa tua proposta Di interfaccia Sarebbe Guarda Delle pubblicità Cioè È come swipare Fra le pubblicità Ok E Perciò Quindi ecco Ciao Mist Grazie per i 10 Anche questo Può essere considerato Distrazione Però Diciamo Per il resto Sono d'accordo Sull'analisi Della home Che si può fare Qualcosa Quindi Dove siamo Qua Su queste cose qua Ci può stare Le classifiche Sono molto difficili Secondo me Da Stabilire Bah Potrebbe essere Una feature Non la farei così Rilevante Però può starci Una sezione relativa Magari una sezione Nuovi talenti Ciao Enrico È sempre un piacere Sostenerti Mi apri la mente E ti stimo tanto Ciao piacchiera Grazie per i 19 Probabilmente le classifiche Possono essere qualcosa Di interessante Secondo me Una cosa che potrebbe Anche essere interessante Che cosa è successo Che cosa è successo su Twitch Per andare a stimolare Un po' i VOD Secondo me Una delle cose Che Su cui Twitch potrebbe Lavorare È la gestione Dei VOD Innanzitutto È ridicolo Che rimangano Soltanto 90 giorni Secondo me I partner Puoi fare più Se è un problema Di memoria Dei server Puoi fare sì Che i partner Che hanno Insomma Puoi fare Dei modi Per cui Rimangono Un anno Almeno Cazzo Cioè 90 giorni Ma che cazzo E poi Possono esserci Secondo me Delle cose Estratte dai VOD In maniera Automatica O semi-automatica Che possono creare Degli highlight Che possono poi Naturalmente Essere esportati Con più facilità Su altre piattaforme Incrementando Il pubblico Su Twitch Quindi questo Secondo me È un aspetto Sì In base All'interazione Eccetera O anche Quando vai Su un canale Vedere un po' Di momenti Te epici Di cose Sì che puoi curartele Tu come creator Però secondo me Una cosa un po' Più che si è aggiornata Automaticamente nel tempo È carina Da solo Poi qui Lui inserisce Questo feedback Di cui non parla Neanche Dove Vorrei capire Che cos'è Il feedback Molto passa Attraverso la chat Io La cosa Dei cuoricini Che compaiono qua Quelle troiate lì Non ho mai capito Quale Quale cosa A cosa dovrebbe Servire Però insomma Quindi non so Potrebbe Non mi dispiacerebbe Allora È che L'oggetto di interazione È la chat Evidentemente L'oggetto di feedback Principale di twitch È la chat Potrebbe essere Interessante Ed è un po' L'idea del K Del K Nappacoso Ci sono delle estensioni Che puoi mettere Che fanno questa cosa Però forse potrebbe essere Interessante Capire dalla chat Se c'è qualcosa Di Insomma Non lo so Non lo so Da pensare Da pensare Da pensare Potrebbe essere qualcosa Però da capire Invece Invece Una parte Sulla quale Secondo me Sei andato Completamente fuori Strada È la chat Perché È pur vero Quello che dici Dal punto di vista Di Beh Un piccolo spacing Si potrebbe mettere D'altro canto Seventv Già ce l'ha Richiede Per i nuovi utenti È molto difficile Leggere la chat Ma I box Terrificanti Perché occupano Troppo spazio Cioè tu devi guardare Una chat media Guarda la mia chat In questo momento È difficile Rispetto ad altre cose La chat va veloce Tutti i miei ospiti Che non sono messi Su di 5 Ma come fai a leggere Ti abitui È un problema Molto difficile Da risolvere Ma È meglio Che ci siano più messaggi È importante Le immagini profilo No Assolutamente no Le icone Non sono d'accordo Su quelle dei moderatori I moderatori si devono vedere Perché è importante Sono Soggetti Speciali Della community Mentre questa qui Non deve essere Così importante Perché il prime È soltanto una condizione Del tuo accanto Buonasera ai due Ocheone Grazie per i tre È vero che sarebbe bello Avere delle icone Più standardizzate Fra i sub Ma è anche Una sorta di Non lo so Secondo me è tollerabile Un po' di sporcizia Nelle Nelle icone E lui non ha neanche Seventivu Questa è la cosa La cosa interessante Ciao Venom Grazie per i due E poi Se avesse Seventivu Scoprirebbe Che cosa sono Veramente le chat E le immagini Profilo Assolutamente no Anche perché I chatters Si possono È una cosa È una cosa Dell'internet Dei miei tempi Questo Perché lo strumento È di quei tempi Tu i chatters Riconosci dal nickname Da come appaiono La fotoprofilo È una cosa inutile Poi tanto Guarda Daniele Pesce Che fotoprofilo C'ha Insomma In ogni caso Ehm Boh Sì Sono d'accordo Che questo banner In alto È un po' Una porcata L'icona Secondo me Della i Ci può stare Meglio di quell'altra Ok E poi Questo proprio No I bit È giusto che siano qui Perché sono una cosa Che fai a parte Suggerire Di supportare Ogni volta che scrivi È tremendo Ti copre Questo qua Durante il video Dici Ah neanche Il designer Più Giovane Fa un errore Del genere Minchia Questo a me Sembra proprio Una roba Che ti stracerei Via L'esame Cioè Tu scrivi E ti copre La Tra l'altro Ti copre La parte Più rilevante Della chat Cioè L'ultimo messaggio Ogni volta Che scrivi Ma Questa è un'idea Veramente Terrificante Cioè Non Non Cliccherà mai Più nessuno Nella chat Quindi Questo qua Proprio No C'è da dire Che Secondo me Ecco Una cosa Che Che deve cercare Di fare Twitch E avvicinare Il nuovo Utente Con L'expert User Perché per noi Per noi Sicuramente Expert Users Queste sono cose Ovvie Non ci interessa E ci siamo Adattati Però Insomma Ci sta Secondo me Che un nuovo Utente È Overwhelmed Ok Un nuovo Utente È Overwhelmed Dalle cose Che ci sono Quindi Bisognerebbe Magari Non dico Un tutorial Però Ci sta Che te lo provi A suggerire Ogni tanto Di fianco Beh Ci sta Ci sta Ci sta Quindi questa cosa Di bit Assolutamente no Questa cosa Di punti canale Non funzionano così Ma non mi dispiace L'idea della barra Forse Un'implementazione Più interessante E indipendente Dal fatto Che li puoi spendere E il tuo livello Di punti Che hai accumulato Nel tempo Questo potrebbe essere carino È una cosa Che c'è Ad esempio Su tante Minchia Poi guardate Se siete mod Che cazzo Via No ma Il tipo Non ha tutti i torti A critica Cioè nel senso Obiettivamente Però I punti canale Sono sicuramente Una cosa un po' così Peculiare E secondo me Avere dei livelli Di punti canale Magari dove non contano Neanche quelli Cioè o che Conta se li spendi O non conta se li spendi Potrebbe essere carino È una Alla fin fine Sono come i points Che c'erano In stream elements Però avere una cosa Tipo Che rappresenterebbe Un po' il watch time No? Perché i punti canale Sono Almeno Funzione Cioè È una funzione Di almeno Il watch time Puoi anche fare Un sacco di punti Senza questo Però salire di livello Arrivare a dei livelli È abbastanza affascinante E' abbastanza affascinante E' abbastanza affascinante